incontro della Lega di Crotone con il vicepresidente della giunta regionale Spirli. Ad accompagnare il coordinatore provinciale avvocato Giancarlo Cerrelli c'erano il candidato alle regionali per il partito di Salvini Salvatore Caetano, la coordinatrice provinciale della Lega Giovani Marisa Luana Cavallo e la professoressa Teresa Kardashian. Obiettivo dell'incontro la vicenda del progetto Antica Crotone, la cui importanza è stata illustrata dall'avvocato Cerrelli. Vogliamo ricordare che il progetto Antica Crotone giace presso il Comune e si cerca di capire quando sarà il tempo della sua definitiva partenza. Rassicurazioni sono arrivate dal vicepresidente della giunta regionale Spirli che ha annunciato l'apertura di una interlocuzione con il commissario prefettizio del Comune di Crotone e con il direttore del Ministero dei beni culturali. Anche Salvini si è scomodato su questa vicenda, ha speso parole per questo progetto, augurandosi che la prossima amministrazione comunale della città sia di segno politico uguale a quello regionale per promuovere con forza il progetto Antica Crotone.